signori tutto accade un venerdì film vecchissimo che penso che abbia una quarantina d'anni ma mi sa che anche 50 o 60 qualche annetto ce l'ha è bello è molto molto bello spero di non aver detto una cavolata con l'età però è carina la commediola carina con lo sto scambio l'hanno anche fatto un reboot sicuro è sicuro c'è anche su disney channel non ce l'ho ma sicuro